ciao a tutti benvenuti in un nuovo video come potete ben capire dal titolo è un vlog quindi dopo aver fatto il video dei boyfriend challenge ho fatto tutto stamattina e adesso oggi mi sono presa sta giornata il sabato che sto con il mio ragazzo ciao saluta qua dietro c'è il mio piccolino willia saluta amore mamma faccio con le mamma non lo voglio far vedere tanto sui video mio figlio perché non è che mi fido tanto ecco della gente strana che c'è in giro però un attimo salutino niente adesso come potete vedere stiamo andando verso senigallia e quindi faccio un vlog di quello che facciamo sabati pomeriggio che alla fine sempre le stesse cose ogni tanto si cambia ma e niente adesso stiamo in galleria se vede tutto buio vedete gialla perché sto in galleria adesso stiamo uscendo c'è un tempo di cacca proprio infatti come vedete c'è la nebbia e tutto e quindi niente c'è questa cuffiettina carina con i strass vabbè c'è trucco che un po mandato via però va bene ok fa niente e niente facciamo sto viaggetto di mezz'ora non con la senigallia ci vuole una mezz'oretta praticamente e niente adesso andiamo a casa pranziamo poi ci riposiamo un po' no niente stupido principe casa adesso pranziamo un po' volevo dire mangiare eh dai mi fai sbagliare anche io volevo dire pranziamo ci riposiamo un po' e poi andiamo a pasta io non posso fare video cuscini con te ma non sepole no cuscini un cunetana scusatela eh com'è che so un cunetana un cunetana e vabbè uso un cunetana lo sanno già vero ti fate per me cos'è non è vero sì come guido io guido così e fatti ok niente adesso si vabbè oh ma non è che mi da 3.000 se esce ma anche vabbè vabbè sto zitta te sei zitta sono io è arrivata vabbè niente dai ci vediamo dopo quando usciamo così andiamo per i negozi anche i negozi cinesi dobbiamo comprare un po' di cosine che dobbiamo comprare un regalino per un amichetto di mio figlio che la prossima settimana fa gli anni adesso vediamo qualcosa da fare e niente quindi ci vediamo dopo ciao mi sono scordata di farvi vedere la mia patatonsola lady c'è la ricchita qua c'è pure lei ovviamente viene sempre con me lei la patatina cina cina c'è sono lady andiamo andiamo da armando dov'è armando andiamo da armando lady si dopo famo la pappa anche si e poi io voglio mangiare l'ho passata una che hai fatto fa serina patatina patatina armando è un altro cane che è il cane del mio ragazzo ovviamente io l'ho fatto prendere io per quanto sono in malista se fosse per me ci avrei lo zio dentro casa ma non seppole non seppole sarebbe non si può lady saluta faccia 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 diciamo cosa vuoi da me rompemi dopo mezz'oretta di viaggio siamo ritornati sono arrivata a casa del ragazzo mio adesso stiamo qua in camera e niente adesso tra un po' è pronto il pranzo e così mangiamo me li riprendo aspetta non si vede eccoli l'altro che si è nascosto ve l'ho ripresa ah ve lo fa vedere armando l'altro cagnolino che cacchio c'è un testo capelli dove è armando eccolo armando eccolo aspettate eccolo questo armando patatone ma quante feste fai me vedi una volta scerci mano armando corri corri aiuto zompa guardate come zompa put no quello no ecco c'è anche la lady ecco la patata la eccola ma prenda lady pilla dai ma prenda lei eccoli lady ecco se rincorre né dietro vabbè e niente ok adesso siamo arrivati adesso andiamo a fare la pappa fame fame e dopo usciamo ci vediamo dopo ciao adesso siamo partiti stiamo in macchina come potete vedere abbiamo prezzato ci siamo riposati e niente adesso come prima tappa andiamo al leader fare la spesa poi dopo andiamo a prendere sto regalino per l'amico di william e facciamo un po di giri dopo comunque faccio vedere dentro faccio finta che sto smuginare il cellulare almeno non so accorgere che riprende non so se si può riprendere quindi non lo so e quindi niente appena arriviamo dopo faccio il video vi è nascosto e vi faccio vedere un po' dei cosini a dopo stiamo facendo la spesa adesso stiamo facendo la spesa stiamo facendo la spesa la spesa l'abbiamo fatta l'abbiamo riportata a casa e adesso niente adesso andiamo prima dei cinesi che mi voleva comprare la colla delle ciglia finte che c'è le ciglia finte da una vita non si vede tanto perché sto in macchina e perché me le volevo mette perché altro caso mai quando faccio i video mi sarebbe piaciuto queste ciglia finte lunghe non sono provate mai ed è proprio e c'ho queste ciglia finte ma la colla no adesso un attimo roberto è andato a prendere il pane adesso lo stiamo aspettando in macchina quando ha fatto andiamo dai cinesi compro la colla per le ciglia poi vabbè devo comprare la colla per mio figlio per la scuola insomma che l'ha finita dopo non so vedo se c'è qualcosa compro ma mi sa che oggi shopping non lo faccio non c'ho proprio voglia poi sai quanto capita con le giornate che non ci voglia quelle giornate no mi sa che compro solo quella basta non so dopo vedo se vuoi comprare qualcosa non lo so dopo niente dopo andiamo lì a l'ipersimpli che c'è sta il game store lì dei giochi della playstation e io prendo un giochetto della playstation per che c'è la 2 e la 3 suo bambino e dopo c'era mio figlio sa quello che poi piacea l'amichetto suo e dopo vediamo niente c'è mio figlio che vuole salutare saluta salve è cascato il dentino fa vedere il dentino eccole lì quello sotto già gli era cascato questo qui c'era addosso no la vede la macchina si però c'era uno davanti cioè aveva già parcheggiato stava a parte con la macchina si stava venendo addosso vabbè ah scusate sto fumando non sta bene dopo che fumo davanti lì purtroppo fumo si esatto doveva sto viziaccio avevo pensato di comprarmi la sigaretta elettronica adesso vedo mi pare mi tocca malavola fa anche perché fumo un bel po' cioè c'ho quasi idea a marzo faccio 27 anni sono giovane fumo troppo adesso vedo se te lo vuoi levare mamma levate la macchina no vuole levare la cuffia ecco adesso sta arrivando e niente dai appena sono dentro il negozio vi faccio vedere un po' dei cosi nella spesa ho fatto vedere poco perchè un po' ancora mi vergogna far vedere dall'altra gente che mi viene da fare il video in caso questa è scema parlo con il cellulare non sta tanto bene ecco è arrivato ok dai ci vediamo dopo ciao siamo arrivati dai cinesi mi faccio vedere qua eh scusa sto a fare il vlog perchè cosa vuoi sto a fare il vlog che starevi lì con noi insieme a noi li portiamo no? i ledini le ledine ecco sì ma qua non so se c'è c'è c'ha quello anti pulci ah io devo vedere cos'è che erano ah le luci le luci dell'albero perde fuori perder fuori si le lucette perde fuori è intanto vedi lì ho dato l'ho della colla per le ciglia con la pre cia finte qual è meglio a questo che c'è il pennellino sì 2 ore 90 2 ore 90 te cosa cosa guardi te i trucchi non toccare se no ti sporchi tutto io lo prendo un rossetto non sono il mascara e dei trucchi non me ne intendo quale è meglio del mascara i rossetti un po scuro lo volevo tipo un viola tipo questo se vedi questo qui non so riprende niente non mi piace ma collate le ciglia che abbiamo preso buongiorno così buonasera signori i signori viglia guarda i giochi qua un po i giochi questi è combattimento ci vorrebbe per natale si per natale per comprami bella sta borsa sta busta poi vedi ah la colla per te mamma la colla per la scuola dove sta la colla per la scuola ah beh stava la giù in fondo no no stava giù vai giù che hai fatto questa 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 eccola qui no 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 è tanto guida c'è solo questi no allora prendiamo il prit prendiamo il prit questo medio 1 90 no debito basta questo qui modi stivali ecco gli stivali quelli che volevo io guardate se belli del timbre la nonna quello per dato qua 24 90 bellissime le prenderò prima o poi william girare veloce che si rompe tutti i testivali non c'è l'abbigliamento qui c'è l'abbigliamento tutta roba eternale figa sta maia ora che maia william si bella bella quella rosa pure vai mamma dai segura aperto vai dai vai william cammina mamma adesso andiamo a vedere il computer william su ma no ma che televisione ma che bomba di televisione sente che case vai william mamma di computer dai veloce 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 è bella c'era sì 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 andiamo a vedere il computer ah ti ho raggiunto che ho raggiunto piano che c'è la gente william piano questo è quello che ti dicevo io ah è così? questo è quello che ti ho mandato a fotografia che ti ho prendo dal negozio ah è questo? era questo qua vedi? a parte che c'è la windows su 8.1 però è intel server vabbè ram e 2 gigabyte ah che dopo lui ti ha detto che mi era nel male sinceramente e io questo ti dicevo questo qua ti volevo prendere rieccoci qua allora abbiamo finito di fare i giri dopo per cena abbiamo ordinato la pizza per le 7 mangiamo come le galline no vabbè perché c'è fame questa è la verità manca 10 minuti adesso intanto arriviamo la e stanno sempre con la sigaretta sì e ovviamente e niente siamo andati come ho fatto vedere prima a fare la spesa poi dai cinese vi abbiamo portato un po' con noi insomma non è stato un vlog chissà che cosa però come ho detto già nel video di presentazione mi sarebbe piaciuto fare un vlog così insomma se facevamo qualcosa di diverso ecco e non ho ripreso tanto dentro che un po' mi vergogno che tutta quella gente mi vede questo cellulare e dice caso fa sta scema è deficiente non me la sento ancora cioè ci devo abituare dopo piano piano di sicuro prenderò il via ho preso un po' di cose così un po' una velocità della luce però ok ti devi fermare in farmacia? ecco il mio ragazzo si deve fermare in farmacia intanto fumo un attimo e niente adesso giusto si fermo in farmacia ma poi non ho meno perdo un po' di tempo lì tanto mancano ancora 10 minuti alle 7 e niente dopo andiamo a prendere la pizza andiamo a casa mangiamo dopo vi do vi volevo salutare qui però vi saluto dopo quando sto in pigiama tranquilla vi do il saluto e quindi ancora il vlog non è finito e niente dopo basta un po' finito andiamo tutti a dormire una manina e basta e va bene questa giornata adesso qua è finita adesso inizia la sera ci vediamo dopo ciao ciao a tutti un'altra volta come vedete sono struccata quindi mi mettete proprio acqua e sapone mi sono finita di struccare adesso praticamente adesso sono le 8.51 e abbiamo mangiato la pizza tutto a posto abbiamo fumato sigaretta ovviamente e niente adesso più tardi alle 9.20 inizia un show di record e quindi niente il vlog finisce qua spero che vi abbiamo tenuto compagnia spero che il vlog vi sia piaciuto anche se non è stato tutto sto granché però almeno ci ho provato per essere la prima volta dai dopo gli altri saranno meglio adesso vorrei fare un vlog con che tanto adesso volevo andare a comprare ed è appena mi arrivano i soldi volevo andare a comprare il regalo per il ragazzo mio non ve lo dico cos'è perché sennò dopo lui se molte volte vedi video non li guarda eh però se capita di vederlo sa che regali devo fare insomma ecco e quindi farò un video con lei con Dark Lady Bijou e farò un video con lei un vlog ovviamente che andiamo in centro di Ancona al piano queste cose qui insomma e niente quindi vedete quando stiamo fuori insomma io e lei insieme quando ci vedete insieme la Lady Nails con la Dark Lady Bijou e quindi niente ok ragazzi e ragazze vi saluto vi mando un grandissimo bacio e ci diamo presto al prossimo video ciao buonanotte per dopo a tutti voi ciao ciao